Tempo Reale, speciale elezioni. 10 e 7 minuti ancora in onda con Tempo Reale, ancora con un candidato, sindaco per il comune di Misano, tra l'altro abbiamo ospite adesso il sindaco uscente, candidato della coalizione di centro-sinistra, Stefano Giannini. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno sindaco. Allora, dobbiamo parlare della campagna elettorale, però inevitabilmente, inevitabilmente, parlando anche della coalizione che la sostiene, in particolare del Partito Democratico, non si può non fare un passaggio a come si è arrivato con un po' di fatica anche all'interno del partito a questa campagna elettorale. Abbiamo un po' tutti seguito anche, insomma, quello che è accaduto. Guarda, io sono un fervente sostenitore del Partito Democratico, proprio perché c'è la possibilità di scegliere i propri candidati della propria classe dirigente. Le primarie sono una cosa bella, perché la sceglie, diciamo, il tuo popolo, sceglie la persona che ritieni più giusta per amministrare il bene comune. Quindi è una cosa da fare con serenità, con le regole democratiche, con lealtà e con rispetto. Io le ho affrontate in questo modo, perché le avevo affrontate l'altra volta da sfidante, le ho accettate molto volentieri, perché mi piacciono, anche se ero un mio assessore, per questo qualcuno poteva lasciarlo anche un po' perplesso, ma non importa. Le ho accettate quindi molto volentieri. Mi sono dispiaciuti molto i toni e anche le calunie che ci sono state nei miei confronti. Io sono una persona veramente che non mi si attacca un centesimo al mignone, neanche se ci mette il super attack. E farmi degli attacchi personali inventati, caluniosi, proprio dalla mia parte, è una cosa che mi è dispiaciuta. E mi è dispiaciuto poi dopo, siccome quando si fa le primarie si firma anche un impegno a sostenere, come giusto, la democrazia, sostenere il candidato che vince, dopo le primarie, insomma, vedere che chi ha perso, la parte che sosteneva chi ha perso, addirittura, ti rema contro, non solo non ti appoggi, ti rema contro, addirittura va anche così a fare propaganda elettorale, o cerca accordi con altri partiti, va a fare propaganda elettorale per il Movimento 5 Stelle, per esempio, questa è una cosa mai nota, quindi lo dico senza nessuna, questo non è bellissimo, non è una cosa, la lealtà è una cosa che dovrebbe essere sempre praticata nella politica, mi dispiace che non sia soprattutto a livello locale, si tratta di servire il proprio comune, quindi non c'è niente di particolare, di sporco, è una cosa buona, bella. Mi ha scritto Veltroni un paio di mesi fa, che è venuto a casa mia, vai avanti Stefano perché stai facendo il mestiere più bello del mondo, è vero, mi sono venuti i capelli bianchi in questi anni per fare il sindaco, perché vuol dire impegno, vuol dire tralasciare anche i propri interessi, tralasciare la propria professione, anche togliere tempo alla propria famiglia, però stai lavorando per il paese dove sei nato, dove vivono i tuoi figli, ed è una cosa che dà una soddisfazione quando fai qualcosa di buono, soprattutto perché chi è più in difficoltà è una cosa che dà grande soddisfazione. Quando uno è il sindaco uscente c'è tutto il bene di un lavoro che è stato fatto, d'altra parte è anche quello che deve sorbirsi le critiche di chi vuole cambiare, spesso anche proprio nel desiderio di questo cambiamento che riguarda un po' tutta l'Italia, non solo Misano. In che modo risponde il sindaco uscente? Io è giusto innanzitutto che, e l'ho fatto già anche nella capaia elettorale delle primarie, che renda conto di come ho speso questi anni e come ho speso i soldi dei cittadini. Due cose di cui sono molto fiero, a parte le opere pubbliche che sono sotto gli occhi di tutti, a parte il fatto che abbiamo mantenuto tutti i servizi e tutti i servizi, quello di cui sono fiero è che abbiamo fatto queste cose riducendo il debito pubblico del comune di Misano del 30%, quindi i mutui che noi abbiamo li abbiamo ridotti del 30%, siamo passati da 1.500 euro di debito per misanese a meno di 1.100 euro di debito per misanese e abbiamo ridotto in termini reali, quindi il depurato dell'inflazione, la spesa corrente del 16%, cioè abbiamo speso meno nel 2013 di quello che si spendeva nel 2008, facendo più servizi. Questo è importante perché oggi non ci sono più trasferimenti dallo Stato, che era una grossa voce di finanziamento, pagava pantaloni una volta. Oggi gli amministratori devono essere responsabili perché i soldi che si spendono sono i soldi dei cittadini e di questo sono molto contento, Misano è il comune di quelli costieri che ha la pressione fiscale comunale, quindi le tasse comunali più basse e ampiamente più basse di tutti gli altri comuni. L'altra cosa importante è che abbiamo fatto dei progetti importanti per portare avanti tutta la nostra comunità, di questo parte l'infanzia e la scuola che sono due cose a cui tengo molto, parte l'economia, il turismo che è cresciuto, queste cose qui, però abbiamo fatto progetti speciali per le persone che fanno più fatica, quelli che hanno per esempio qualche difficoltà propria, l'handicam in particolare. L'estate in villa per i ragazzi autistici è un'esperienza che è venuta a visitare anche il Presidente della Camera. Il progetto Pesca di emozioni per i nostri ragazzi che fanno un po' più fatica, che sono più lenti nell'età adolescenziale perché sono a meno doti, diciamo così, di espressione rispetto ad altri, e sono quasi 25 ragazzi che sono tutti di Misano. L'aiuto che diamo alla scuola per il sostegno all'handicap, sono le cose che ovviamente, perché una comunità va avanti tutta assieme, si porta dietro tutti, questo me l'ha insegnato il mio maestro che si chiama Don Aleste Benzi. Sindaco, una delle questioni dibattute in questa campagna elettorale è quella degli strumenti urbanistici, parliamo del PSC, il Comune deve ancora adottarlo, è già stato un'iter piuttosto lungo in proposito. Anche travagliato, tra l'altro sarà una delle prossime partite, qualcuno ha anche contestato, ma come mai il Comune di Misano arriva così tardi anche ad adottare questi strumenti urbanistici? Questa è una leggenda metropolitana, in realtà i comuni della provincia di Rimini che hanno il PSC sono 4, su 24 e gli ultimi li hanno adottati, Sant'Arcangelo recentemente, Riccione qualche anno fa e Cattolica pure, insomma, quindi anche San Giovanni poco tempo fa, un anno fa. Noi abbiamo iniziato un percorso insieme al Comune di San Clemente per risparmiare, evidentemente lo dico francamente, anche perché poi comunque sono due territori che nella parte collinare sono molto integrati e molto simili, anche se poi dopo noi abbiamo la partitoristica diversa. Siamo arrivati a ridosso delle elezioni, mi sembrava giusto questo farlo completare a chi amministrerà, io penso di esserlo ancora io, ma mi sembra di avere correttezza. Aggiungo una cosa, che però i principi erano stati già specificati, cariti in assemblee pubbliche, crescita praticamente quasi zero, perché dire crescita zero ovviamente è semplicemente fare demagogia, perché comunque tutto continua, il mondo è cresciuto anche con l'urbanistica, che è quella che ha fatto bene le città italiane, quindi l'urbanistica non è solo speculazione, per fare la buona urbanistica e privilegiare ovviamente le caratteristiche peculiari di Misano, quindi valorizzare il fatto che Misano sia il comune nella riviera Romagnola dove prevalgono i vuoti sul costruito, quindi il verde sul costruito, le sue caratteristiche anche di queste belle frazioni, di mille e mille e cinquecento abitanti ciascuna, quindi senza snaturare la sua caratteristica. E l'altra cosa è quella di privilegiare la possibilità dell'edificazione della necessità di famiglia rispetto ai grandi comparti, quindi queste inversioni in tendenza rispetto all'urbanistica che si faceva 15 anni fa e lo faremo con queste cose. Sul tema anche del territorio, la viabilità, che è un altro tema su cui ricordo qualche incontro che lei ha fatto a livello anche di ministeri per andare a battagliare, a fare delle richieste, anche nel percorso della nuova statale, insomma a che punto siamo e soprattutto in che modo l'amministrazione uscente è riuscita a portare avanti alcuni dei progetti sulla viabilità? Dunque noi abbiamo fatto delle cose importanti sulla viabilità, come mai erano state fatte Misano, mi riferisco alla strada che collega l'autodono Santa Monica alla statale Sedisi per esempio, che erano opere che aspettavano 30 anni, come la variante di Via Argentina, come per esempio per ridurre la sinistrosità, quindi gli incidenti stradali, avere realizzato in una rotonda ogni, ho fatto il conto, 75 giorni, 22 rotonde, quindi una cosa, perché sono rotonde e sono utili per il traffico. Abbiamo bisogno di migliorare ulteriormente questa viabilità perché viaggiamo ancora nella nostra provincia sulla via Flaminia, ancora quella è il tracciato, non esiste, siamo la capitale europea del turismo, abbiamo il numero di incidenti più alto d'Italia dopo Napoli, abbiamo il numero di sinistri, di infortuni, di mortalità più alto d'Italia dopo Napoli, dobbiamo assolutamente migliorare. Noi abbiamo lavorato per fare una viabilità migliore rispetto alle soluzioni che erano state adottate nella precedente amministratura per cercare di portare la viabilità completa fino alla cattolica, fino a congiungersi con la principale strada di collegamento Montemare, la via Saludesiesa, la provinciale che viene giù da Morciano fino a Cattolica, perché pensiamo che questo sia il progetto più importante. E c'è anche il contrasto tra l'altro con le altre amministrazioni. Sì, è il contrasto con le amministrazioni, ma io ho l'idea che quando l'idea è giusta poi alla fine puntando, puntando, si riescono a portare a casa dei risultati e sono convinto che si possa, e la ragione è quella che poi alla fine può prevalere, non semplicemente difendiamo il nostro territorio perché è il più puro, questo non va da nessuna parte perché te lo possono ribattere anche gli altri. Una cosa molto importante è quella che siamo riusciti a ottenere che la società autostrade farà una bretella di collegamento anticipatorio, se volete, sulla strada del 16 nel tratto più congestionato, quello che va dalle Fontanelle fino a San Lorenzo. E quindi è una bretella che collegherà la località di Villaggio Argentino, quindi raccogliendo la viabilità che da Morciano venne giù Riccione sulla Riccione Tavoleto e anche il traffico nostro della nostra zona artigianale, direttamente con il casello autostradale di Riccione, sfruttando lo lavoro che è già stato fatto per la terza corsia, cioè le due gallerie rimaste in questo momento inutilizzate, che sono in località Scazziano. Un'opera che non costa molto e che verrà fatta assieme alle due rotatorie fondamentali qui a Rimini, che sono la Montescudo e la strada strada statale per San Marino, che sono anche queste nel pacchetto, che potrà fare società autostrade perché siamo riusciti a far passare il concetto che sono opere migliorative della adduzione della viabilità autostradale e in questo caso possono rientrare nelle possibilità di operatività della società autostrade, che è l'unica che in questo momento ha le possibilità per fare investimenti nel nostro territorio. Parlare di Misano vuol dire parlare di turismo, quali sono le priorità in questo senso? Dunque, noi intanto dobbiamo essere contenti di questo. Il turismo valleare in Italia è diminuito mediamente negli ultimi cinque anni tra il 15 e il 20%, secondo i dati statistici. Nella riviera di Rimini il turismo ha tenuto, sostanzialmente ha tenuto. Misano è il comune che meglio di tutti ha risposto in questo momento di crisi, tant'è che abbiamo avuto tra il 2008 e il 2012 una crescita di presenze nelle strutture alberghiere superiore al 6% maturando tutti i cinque gli anni. Non è molto, ma in questa situazione direi che è positivo. Noi non avevamo queste tassi di crescita in passato. Qual è il valore aggiunto? La scelta vincente è appunto Misano, perché Misano ha questi spazi verdi che dicevo prima, è stato il primo comune a pedonalizzare il lungomare. Questo dà sicurezza agli anziani, dà sicurezza alle famiglie con i bambini, dà un ambiente più vivibile, più a portata di uomo che è stato apprezzato. Ovviamente poi devo metterne nel conto anche la bravura dei nostri operatori turistici. Misano è il comune che ha la maggior parte di alberghi in proprietà e anche le strutture balneari sono consolidate, quindi non c'è un turnover continuo di gestioni e questo fidelizza la clientela e secondo me è un elemento di forza importante. L'autodomo di Santa Monica... Da motociclista, sindaco, insomma, l'autodomo di Santa Monica... Aspettavate un lato. Chiaramente noi siamo l'unico comune nel mondo, di cui vado fia di questo, perché è la mia passione del motociclismo, che quest'anno organizza, non il comune, ma l'autodomo di Santa Monica, con la collaborazione forte del comune, tre raduni mondiali. Il mondiale Superbike, il raduno mondiale Ducati e la MotoGP. Siccome è tutta roba, la dico così, che va spesso in mondo visione e direi che come veicolo pubblicitario non è male. Molti posti conoscono molto più Misano, di Rimini, di qualsiasi altra carità turistica, perché chiaramente noi diamo gran premio. Quelli che hanno nella testa le due ruote sicuramente. Sindaco, però una cosa su questo, sappiamo quanto sia importante nella promozione, soprattutto anche di questi eventi, il tema del territorio. Rispetto anche a portare la MotoGP a Misano, è stato molto importante lavorare come provincia. Oggi la provincia sta evolvendo, non che non scompare, perché non scomparirà, però sta evolvendo in modo sostanziale. Su questo ci vuole come essere comunque territorio, come presentarsi con la forza di un territorio? No, è fondamentale. Dunque, le province della provincia spariranno alcune competenze, scompariranno gli organi politici, ma le funzioni di area vasta, diciamo così, rimarranno. Credo che in qualche modo, questa è una riforma provvisoria, ma secondo me c'è alcuni elementi di verità che potrebbero essere mantenuti. Perché comunque il tema positivo è che non c'è un risparmio dal punto di vista degli emulamenti, perché non ci sono più consiglieri comunali, provinciali, non c'è più giunta, non c'è più presidente, lo fa un sindaco volontario che farà da coordinatore. La provincia ha avuto un ruolo importante in questo, per esempio nel MotoGP, perché si chiama Campino Riviera di Rimini e devo ringraziare anche gli altri sindaci della Riviera che danno una mano non da poco per sostenere questo evento. Riviera di Rimini è un marchio che credo sia importante da promuovere nel mondo e quindi non è solo Misano, anche perché poi mi sa non avrebbe neanche gli spazi e i posti letto per accoglierli tutti. Quindi va bene, bisogna continuare in questo senso. Io in questi anni ho cercato anche di avere un ruolo di supporto al presidente della provincia, perché riguarda i settori dove forse ho un po' più di competenza anche professionale, che sono quelli dei servizi pubblici, dall'idrico alle fognature ai rifiuti, perché sono i rappresentanti della provincia, di tutti i comuni della provincia, dell'agenzia regionale che si occupa di rifiuti. Esatto, al di là dei nomi. E lì, sindaco, però arriva anche l'argomento spinoso, no? Perché questo tema dell'ambiente, dei rifiuti, dell'inceneritore, che tra l'altro, insomma, anche come amministrazione dobbiamo, per onore di verità dirlo, sono state anche tante battaglie portate avanti insieme al sindaco Spinelli, al sindaco di Riccione, insomma... Qualche giorno fa, la nota della provincia con la quale vengono fatte delle osservazioni al piano regionale, specie in merito al quantitativo di rifiuti... Questi famosi rifiuti da fuori regione, ecco, sindaco, su quello, come state? Sì, noi abbiamo lavorato, secondo me, in questi anni, ottenendo dei grandi risultati. Io sono uno che ritiene che si debba affrontare il tema con responsabilità. La provincia di Rimini è, in Italia, quella che produce più rifiuti pro capite. 850 kg pro capite di rifiuto, la ragione è semplice, nei pro capite viene spammato anche quello che producono i turisti, siccome siamo il polo turistico più importante d'Italia e noi siamo anche quello che produce più rifiuti. Siamo anche, però, di conseguenza, siccome abbiamo migliorato di molto la raccolta differenziata, siamo anche quelli che recuperiamo, differenziamo e recuperiamo, più materiale dalla raccolta differenziata d'Italia. Siamo attorno al 500 kg a persona, siamo nettamente quelli che, paradossalmente pro capite, recuperiamo di più. Però abbiamo una grande produzione di rifiuti e bisogna, non si può scherzare con queste cose. La riviera di Rimini con i rifiuti, l'immagine di Napoli sulla riviera di Rimini, noi non ci riprenderemo più per tutta la vita. Quindi ci vuole un'impiantistica che, nel momento attuale, sia in grado di rispondere a queste cose. Noi abbiamo ottenuto, in questi anni, visto che abbiamo aumentato la raccolta differenziata in modo importante, il mio comune è passato dal 38% del 2008 alla punta massima che abbiamo raggiunto, dicembre 2013, quindi pochi mesi fa, del 71,5%. È una crescita notevole, notevole. Misano, assieme a Reggio Emilia e anche a Rimini, è il comune dei quelli costieri e capologhi di provincia, questi così li classifica il piano regionale dei rifiuti, che ha la migliore performance e ha avuto anche la migliore crescita in questi anni. Questo ci ha consentito di ridurre la produzione dei rifiuti e di mandare inceneritore. Questo ci ha consentito di chiedere alla Regione, al piano regionale dei rifiuti, di fare in modo che l'autorizzazione che c'era su Raibano, nel precedente piano dei rifiuti, che era provinciale, di 180.000 tonnellate, venisse ridotto a 123-125.000 tonnellate, che è la potenzialità massima che ha l'attuale linea, l'unica in funzione, quella più moderna, dell'inceneritore di Raibano. Quindi eliminando definitivamente la vecchia terza linea, quindi la linea rimasta, che è pronta lì e autorizzata, ma non verrà più messa in funzione, che consentiva con 45.000 tonnellate appunto di arrivare alle famose 180.000. Quindi riduzione da 180 a 125.000 tonnellate. Nessun rifiuto da fuori province, perché nel piano regionale sarà scritto così, e questo credo che sia un risultato importante, perché anche la nuova linea fa emissioni in atmosfera il 10% rispetto alle vecchie tre linee. Quindi abbiamo ridotto del 90% delle emissioni. Questi sono tutti dati importanti. Quindi riduzione della quantità, riduzione delle emissioni, sono risultati raggiunti in cinque anni. Poi il mondo va avanti. Come sono migliorate le modalità di incenerimento? Ci sono oggi che vengono avanti altre tecnologie che possono essere messe, prese in considerazione. Per esempio i trattamenti a freddo, il TMB, trattamento meccanico-biologico, che sono ancora in fase molto sperimentale e soprattutto difficilmente ancora applicabili ad aree vaste con grandi produzioni di rifiuti, come la nostra provincia. Però la Tersir, l'agenzia dove sono io membro per il conto di Rimini, ha deciso di fare, sperimentare questa nuova metodologia nella provincia di Reggio Emilia, che aveva una discarica che è chiusa, perché il sistema peggiore di smaltire rifiuto è la discarica. Quello è vietato dall'Europa e ci fa delle sanzioni degli anni. Provare invece del sistema dell'incendimento, andare verso il TMB e quindi nella prospettiva avere queste tecnologie nuove. Volevo un attimo riagganciarmi al tema turistico per la questione tassa di soggiorno, visto che il Comune di Misano è uno dei pochi della riviera riminese che non la applica. Sì, noi per l'attività di revisione della spesa di cui dicevo prima, noi la spending review l'abbiamo fatta cinque anni fa, l'abbiamo cominciata, quindi il giovanotto di Firenze, che mi è molto simpatico, evidentemente è accoppiato da noi. Scherzo, evidentemente. È ovvio, è una battuta. Però siamo stati molto attenti nella spesa, abbiamo quindi potuto incidere, spingere molto meno sulla leva fiscale a carico dei cittadini. In realtà però, con gli albergatori che ci hanno detto, fate qualsiasi altra tassa, metteteci qualsiasi altra tassa, meno quella sui turisti, perché riteriamo che dal punto di vista della promozione turistica sia negativa, non metterci la tassa di soggiorno. Noi abbiamo deciso, va bene, noi, ma mi sanno, pensavamo di incassare la tassa di soggiorno, una cifra molto modesta, parlavamo di 250-300 mila euro, e sostanzialmente questa somma, gli albergatori in proprio la pagano già, e lo sanno, glielo ho detto, perché mi piace essere così trasparente, perché abbiamo la tassa sui rifiuti e l'Ibu al massimo sugli alberghi. Io sono dell'idea che un discorso in questo senso vada fatto, nell'ambito di un discorso molto concertato con gli albergatori, mi piace molto per la gestione del turismo, il sistema di Bellare, lo dico, in parte che è partito da diversi anni, Verde e Blu è una buona esperienza, una fondazione, prima era una società, prima era una fondazione, perché mette assieme comuni e categorie economiche in concerto, e si potrebbero finanziare, secondo me, gestiti assieme, poi dopo le risorse, tutte le attività del comune promozionale di trattenimento anche attraverso la tassa di rifiuti, se ovviamente questo è un sistema di... Ecco, su questo, sulla tassazione, diceva, esatto, il comune di Misano è quello che ha, insomma, il peso fiscale è minore, però ecco, sulla tassa dei rifiuti, quindi anche con il confronto, dialogo scontro, a volte con ERA, insomma, anche su questo, forse da sindaco ha qualcosa da dire. Io sono, anche lì, molto pragmatico, sono stato molto duro con ERA, quando, per esempio, ha cercato di fare passare la modifica dell'autorizzazione ambientale alla provincia, per così consentirli di portare i rifiuti da fuori. ERA è una società che fa dei servizi, il regime di prologa, il prossimo anno, vandrà a gara, quindi potrebbe esserci ERA, come potrebbe esserci qualsiasi altro gestore. in questo momento, è una società che ha maggioranza di proprietà dei comuni dell'Emilia Romagna e non solo, quindi questa è la caratteristica di ERA. Quindi io, non solo per lo scontro, io sono per il confronto, non c'entra niente. L'ideologia, addirittura, anche nella gestione delle società di servizi, mi sembra veramente poco intelligente. Anche tutto il tema delle partecipate, sindaco, che sono un po' messe in questo momento in discussione dalla politica. Guardi, noi abbiamo una partecipata che si chiama Romagnac di cui per 8-9 anni sono stato io vicepresidente che è tutta pubblica e viene considerata in Italia il migliore acquedotto e la migliore società che produce servizi idrici. Quindi si possono gestire bene anche le partecipate, come i comuni, basta gestirle bene. Sindaco, 20 secondi per l'appello al voto. Candidato sindaco. Eh sì, è un'altra parte. Ma io vorrei dare in questi giorni qui un po' di serenità di positività. Sento troppe troppe voci negative in giro. Io sono convinto che questo paese del nostro, l'Italia, possa farcela ma però deve crescerci in modo positivo. E anche Misano, non siamo in una brutta situazione. Siamo un bel comune, un comune che cresce e quindi lavorare in senso positivo non è solo distruttivo. Questo è il mio compito credo che devi dare questo messaggio. Noi ringraziamo davvero Stefano Giannini per essere stato con noi, per averci raccontato il suo programma ma chiaramente anche da sindaco uscente anche quello che l'amministrazione ha fatto finora. Noi torneremo lunedì a parlare di Misano con gli ultimi due candidati che ci mancano. Esatto. Rosario Zangari e Antonio Mignani per cui con loro poi concluderemo questa partita misanese. Auguriamo al sindaco uscente, candidato sindaco, buona campagna elettorale. Una settimana intensa. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.